15 ottobre 2021, 15 ottobre 2023, oggi molte persone hanno ricordato questa data come il sudalizio di una prepotenza, di un'assurdità vergognosa. Invece io voglio dire di più, voglio dire molto di più. Il sudalizio non è del giorno in cui hanno proibito alle persone di lavorare liberamente. Il sudalizio va ricordato dalla data del 10 di marzo. Il 10 di marzo prossimo, del 2024, saranno quattro anni che abbiamo potuto vedere quanto alcuni falsi amici fossero dei bastardi. Saranno quattro anni che abbiamo potuto vedere come dei parenti fossero dei bastardi. Abbiamo potuto vedere come tantissime altre persone, vicini di casa, colleghi di lavoro e tanti, tanti altri fossero dei falsi bastardi. Voglio dire di più. Per quegli ipocondriaci cretini che ci hanno circondato da quel 10 marzo 2020, perché non la pensavo come la storiella raccontava. Quei cretini ipocondriaci che da parte mia non avranno mai il perdono. Non perdonerò mai quegli amici che mi hanno chiuso la porta in faccia quel 10 marzo perché non la pensavo come la storiella raccontava. Non perdonerò mai quei parenti che quel 10 marzo hanno chiuso le porte alle persone che non credevano nella storiella che raccontavano. E tutto questo per colleghi di lavoro e altro. Non possiamo perdonare quelli che dicevano di esserti vicini sempre e poi, per paura di un raffreddore, ti avrebbero addirittura mandato nei campi di concentramento. Non lo possiamo dimenticare. Non lo dimenticheremo. Io non lo dimenticherò mai. Non lo dimenticherò mai. E vi dico un'altra cosa. Adesso che i nodi stanno venendo repentinamente al pettine, io non riesco a provare pietà. Non riesco a provare pietà per quelle persone che volevano rovinarmi la vita, che volevano buttarmi giù psicologicamente, che volevano anche fisicamente buttarci giù. e vi dico di più. Ogni giorno c'è la conferma che hanno perso miseramente. hanno sbagliato miseramente. Hanno messo da parte persone che gli volevano bene, persone che dicevano la verità, persone che avevano capito il grande imbroglio. e questa è stata la cosa più grave anche di quello che è successo poi il 15 ottobre e che successivamente è successo l'8 gennaio. Bene, detto questo, voglio farvi ridere oggi. Il comune di Venezia ha sospeso l'uso degli autobus elettrici della società La Linea dopo un secondo incidente con uno dei suoi mezzi. Il comune di Venezia ha sospeso l'uso degli autobus elettrici gestiti dalla società di trasporti La Linea dopo che sabato sera a Mestre, ieri, c'è stato un secondo incidente con uno dei suoi mezzi in cui 13 persone sono rimaste ferite. La Linea è la società che gestisce il servizio di navetta di cui faceva parte l'autobus caduto il 3 ottobre da un cavalcavia. Nell'incidente sono morte 21 persone e quindi ci sono rimaste ferite. Sabato sera, poco dopo le 21, un altro dei suoi autobus elettrici si è scontrato contro un pilastro di un porticato. lungo la strada che porta a piazzare i donatori di sangue. L'autobus coinvolto nell'incidente di sabato di cui non si conoscono ancora le cause era utilizzato dalla società di trasporto pubblico ACTV per la linea urbana 13 che arriva a Marghera. ACVTV fa parte del gruppo AVM ACTV la società partecipata del comune di Venezia che si occupa di mobilità pubblica e usava autobus di la linea per alcune linee urbane. Ha deciso di sospenderne l'uso e di sostituirli con mezzi propri che farà guidare da autisti di società privata. L'autobus dell'incidente del cavalcavia non era in servizio per conto di ACTV ma faceva la navetta per il camping HU di Marghera. Per l'incidente del cavalcavia la procura di Venezia starebbe indagando su un eventuale guasto dell'autobus secondo il Corriere del Veneto. Non un incendio ma un problema tecnico come un malfunzionamento dei freni o dei sistemi per controllare il mezzo. Nei prossimi giorni sarà eseguita una perizia sia sull'autobus che sui dati raccolti dal sistema telematico. del mezzo stesso e conservati dall'azienda produttrice. Le persone indagate sono tre Roberto Di Bossolo dirigente del settore mobilità e viabilità della terraferma del comune di Venezia Alberto Cesaro funzionario del settore manutenzione Massimo Fiorese l'amministratore delegato di La Linea. I tre sono accusati di reati di omicidio stradale omicidio colposo plurimo lesioni personali stradali gravi o gravissime lesioni personali colpose. Allora soffermiamoci anche un attimo su tutto questo dunque si è detta una cosa che se fosse venuto fuori il malore dell'autista probabilmente l'assicurazione tramite le clausole di sottoscrizione del contratto non avrebbe risarcito i passeggeri naturalmente non è proprio così la 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 clausola dice anche questo ma non è proprio così non è che non avrebbero risarcito però non le avrebbero risarcito come sarebbe stato dovuto quindi c'era da salvare parenti delle vittime e c'era da salvare le sacre benedizioni era logico che uscisse fuori che in questo caso il loro amato autobus elettrico fosse preso come capro espiatorio e quindi gli si addossassero tutte le colpe in special modo se continueranno questi continui malori dei conducenti e continui incidenti di questi mezzi pensate voi questo infine la dice molto lunga sul periodo di follia collettiva di pazzia di incomprensibilità del periodo che stiamo passando la dice molto ma molto lunga e comunque non dimenticate mai quello che vi ho detto non li perdonate ci vediamo domani ciao a tutti